Musica Il progetto avviato alcuni anni fa da banca Cassa degli Spameri Fossano prosegue con successo tenendo anche la riconferma da parte dei firmatari della prima edizione che fu avviata nel 2015 mettendo 50 milioni sul tavolo della ripresa. Il sostegno alle piccole e medie imprese artigiane e terziarie aderenti alla Confartigianato Imprese Cuneo diventa dunque una realtà attraverso l'intesa sottoscritta nel Salone d'Onore della CRF con l'obiettivo di assicurare delle vantaggiose condizioni creditizie e finanziarie alle aziende artigiane del Fossanese e della Granda. Continuiamo con questa iniziativa di collaborazione con le banche del territorio con le quali da sempre c'è piena sintonia in quanto noi come associazione di categoria promuoviamo gli interessi delle aziende e le banche di territorio promuovono l'economia del territorio quindi siamo sulla stessa linea di mission e diventa naturale quindi questa collaborazione. È una collaborazione che ormai è in atto da tanti anni e ha dato nel tempo grandi frutti per quanto riguarda l'accesso al credito alle nostre aziende. La convenzione di fatto prevede delle condizioni di favore alle aziende artigiane e sui tassi e sul tipo di finanziamento che la banca può mettere in essere. La convenzione è molto ampia quindi può riguardare sia gli investimenti come le scorte come ogni altro tipo di finanziamento che l'azienda possa avere bisogno. Quindi siamo riusciti veramente con la direzione e con la presidenza della Cassa di Spalmio di Fossano a generare uno strumento che in momenti di crisi come questo consente notevole flessibilità. Questo percorso si inquadra nell'ambito di quello che è un servizio sindacale che è confartigianato dalle aziende di assistenza al credito confartigianato, si è strutturata al suo interno per essere più vicina alle imprese accompagnandole a quello che è il discorso dell'accesso al credito mediante un accompagnamento sulla bancabilità un accompagnamento su quelli che sono i vari prodotti che possono essere messi in essere usufruendo di quelle strutture già in essere nell'ambito del sistema confartigianato che da sempre hanno generato positività e mi riferisco in modo particolare al confidi di confartigianato Cuneo perché da sempre uno strumento che favorisce l'accesso al credito è dato dal confidi che presta garanzie a favore di quelle imprese che non hanno garanzie proprie da mettere in atto per avere i finanziamenti di cui hanno bisogno. In modo particolare l'attenzione rivolta ai giovani dove il nostro confidi ha avuto questa particolare attenzione di alzare la soglia della copertura della garanzia dal 50 all'80% quindi diciamo le imprese giovani devono garantire solo il 20% del credito erogato. Ecco tutto questo direi che va in quella linea di accompagnamento sindacale che confartigianato da anni mette in essere e che recentemente stiamo sviluppando cercando di essere sempre più presenti all'interno delle aziende perché riteniamo che la vicinanza e la conoscenza dei problemi delle singole aziende possa costituire in un momento così difficile un grande aiuto alle nostre imprese. Sono 50 anni che prestiamo il nostro servizio alle imprese artigiane e sono 50 anni che abbiamo convenzioni con tutte le banche del territorio della provincia di Cuneo. Siamo una bella realtà. Io dico sempre grazie al tessuto economico artigiano che è un tessuto economico sano che ci permette oggi di pur investendo qualcosa come 38 milioni di euro sul nostro territorio co-garantendo 38 milioni di euro alle nostre imprese ci permette di avere un tasso di insolvenza pari all'1% che è una cosa diciamo fuori dai tempi si dice così. Tutto ciò lo facciamo per un'esigenza che c'era appunto fin dal 69 quando siamo nati esigenza di credito che c'è ancora di co-garanzia al credito questa co-garanzia e non solo la co-garanzia ma anche tutta una serie di informazioni di informative che noi diamo alle nostre imprese a titolo assolutamente gratuito anche di questo ve ne è più che mai bisogno e in una moderna Confidi come la nostra strutturata come la nostra è un servizio che noi diamo alle nostre imprese. Questa convenzione che abbiamo fatto con la Cassa dei Risparmi che faremo oggi con la Cassa dei Risparmi di Fossano che è una delle banche più importanti della nostra zona qua di Fossano è rivolta soprattutto alle nuove imprese le neoimprese e di fatti vengono fatti queste convenzioni con 50 milioni di euro disponibili per queste nuove neoimprese a dei tassi agevolati decisamente vantaggiosi si rivolgono proprio a queste neoimprese con due tipi di investimento uno su investimento mobiliare e immobiliare che arriverà fino a 100 mila euro e uno di investimento di liquidità e di start up per queste neoimprese che arriverà a circa 50 mila euro e tutti avranno una durata dai 7 ai 10 anni. Presidente Ghidolfi, oggi assisteremo alla firma di queste importanti convenzioni se si rinnova l'accordo che c'è tra l'istituto di credito da lei preseduto ovviamente la Confartigianato e la Confidi Imprese Cuneo. Sì, noi vogliamo rinnovare questo accordo mettiamo a disposizione 50 milioni come già si era fatto anni fa crediamo che questo possa contribuire al rilancio dell'economia un rilancio di cui vediamo i primi segnali noi vogliamo essere protagonisti e aiutare le aziende artigiane in questo percorso. Anche perché abbiamo visto e sentito anche nelle precedenti interviste questo si rivolge soprattutto alle nuove imprese sono anche molti giovani che investono comunque cercano di investire il loro futuro nel mondo dell'artigianato. Sì, noi vogliamo ovviamente favorire queste imprese fatte da giovani anche perché questo significa lavoro significa migliorare gli indici dell'economia quindi noi siamo disponibili a finanziare con un plafond enorme ma speriamo che il plafond sia insufficiente e di integrarlo ancora soprattutto i giovani hanno bisogno di lavoro diciamo che questa firma va in questa direzione. Grazie a tutti!